Nooo! Mamma mia! Mamma mia! Che squadrone, che squadrone! Vente in che vanno! Che cazzo! Bella vecchi dravani, bentornati qui sul canale di Ranas e i Shaqiri dell'Inter è veramente una gioia per gli occhi! No, comunque la davanti è bacalissima sta squadra! Eh, molto molto bacalissima! Io dico, no, ma la lavatrice in cucina adesso devi fare la centrifuga! Senti che roba! Eh! Hanno appena messo dei fai lavori qua accanto a partita la centrifuga, cioè la quattro finiva tutto bene. Comunque, vabbè, eh, seconda partita della quarta divisione per più o meno la centesima volta, quindi siamo abbastanza abituati. Ormai abbiamo trovato la nostra divisione che è la quarta! Sì, è la quarta, siamo veramente affessionati e non la vogliamo lasciare. Oh, vedi, e abbiamo preso un gol anche per questa fronzata, l'altra partita. Uh! Cusca! Cusca! Eh, lo non va a dire perché a me non me la puoi dare a più. MAMMA CHIA! QUAN QUADRATO! Non è stato il tiro! Mi sono fatto che si cagava sempre in psicolo. Ma che so come palla! Ma si cagava sempre in psicolo. Però male, dai, è quadrato, abbiamo trovato un nuovo totem per la nostra squadra. La tensione dell'aria mentre... Comandava quadrato. Ma mia, Walker, che bombe. È partito quadrato. Oh, l'hai forzato? Eh, che cazzo, la mia portata! Eh, che cribbio! Avcora fanno montacci di unguardo. Ma hai su, sei popoli, dico. Eh, azzatà, 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 azzatà. Ma, azzatà, 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 azzatà. Azzatà, 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 azzatà! la tua perché non l'ha passata bella apertura per il quadrato io lo faccio la quella, non dire che ero un peccato Agüero, 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 mamma mia bestia, bestia bestia Agüero, bestia MAMMA MIA E' CUNA SERGIO ALCUN io ho messo al cun proprio oh oh eh vabbè questa la fallo guarda che culo, guarda che culo, guarda che culo manca solo il delfino bello, mandami no, si, oh guardami vai 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 a mezzo, vai a mezzo di Marietta ma lei sulla testa, di Marietta, c'è prova la testa otti tu, oh ma che cazzo fa oh ma che cazzo fa, lo ha passato a mezzo ma in mezzo l'ho passata, cioè nel mezzo l'ho crossata, pensavo di rasse le tese venga prendi, no vabbè ma che cazzo è Casper ti ho detto se lo sa fa il basso, va tira, boom morti, gai, 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 gai che hai fatto male, no, no è la disperazione ma con io cazzo di me della crisi sboccio solo acquero ma capri su taci su andano vabbè io ho sentito no no i quadrato quadrato ancora quadrato mebbia muta cipollone aria mattina vai 3 a 1 primo tempo travani sugli spalti io non so tranquillo io nemmeno perché ci si può disconnettere può segnare 8 gol finisce 4 a 3 azzarda quadrato il trident ad attacco mamma mia che squadra con quella davanti no mamma mia ho sentito proprio lo sforzo ancora io devo la lievitatura no adal bestia mamma mia eden e dunque forse è un po' più al simbolo ma forse è che era lui era scattato questo è fatto in cuba ah ce la fa buono buono come il pane a caldo e mezzo eh non dico te lo fa passa subito stop preciso perfetto mamma mia mamma mia che squadrone che squadrone vendicchia che cazzo che squadrone ragazzi che squadrone mi dicevo bene prova continuati tira tira ramires mamma mia che fucco cazzo tu ma ha sfollato tutto ramires ma fucco 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 con la mia e e e anche di maria segna anche lui segna anche lui da risultato passato 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 se non voglio ora se voglio O lo vede gli occhialoni Comunque Questa partita l'abbiamo stravinta Forse la prima partita vinciamo 6-1 Meglio vincere 5 partite 1-0 più una partita 5-0 Esattamente Comunque non ci ricordiamo Comunque questo signore è pdfc Oggi abbiamo vinto la prima vittoria di questa stagione E ragazzi la stagione se la sentimo matta E niente quindi noi ci becchiamo al prossimo video E ciao Ciao